Grazie Marzia, grazie Claudia Conforti, Marzia Grazia e Anna Malone per questo invito a intervenire in questo convegno internazionale, grazie anche per questo esercizio molto facile di passare solamente dopo Francesco D'Alco, veramente mi ricorderò questo. E dunque ho questo ruolo di parlare di Verdun, di l'osario di Duomo e di questa battaglia di Verdun per il quale abbiamo cominciato il centenaio un mese fa. Lunedì 21 febbraio 1916, al 4 del mattino, una granata tedesca esplosa nel cortile del palazzo vescovile di Verdun. Fu un semplice tiro di regolazione che annuncia il diluvio che esploderà alle 7 e un quarto. Per 300 giorni e 300 noti, da febbraio a dicembre, le armate tedesche e francesi si scontreranno in una delle battaglie più lunghe e devastanti della Prima Guerra Mondiale. Lo scontro ha lasciato più di 700.000 persone, di cui circa 300.000 soldati morti fra francesi e tedeschi, mentre circa 130.000 non identificati. La maggior parte delle perdite, l'80%, è dovuto all'atterreria, che rende assurdo ogni attacco della fanteria. La battaglia è un ritorno alla situazione precedente. All'assurdo si aggiunge così l'inutilità, almeno in un primo momento. Perché in effetti, se questa battaglia non ha cambiato le linee del fronte, essa è in Francia l'origine di una vera e propria mitologia nazionale. Verdun appare come una vittoria di difesa francese, con 70 delle divisioni dell'esercito, su 95 ci sono alternati a spingere il nemico tedesco e difendere il territorio nazionale. Verdun divenne così un simbolo di coraggio e spirito di sacrificio, di eroismo e di sacrificio patriotico. Verdun diventò il luogo importante per la memoria della Prima Guerra Mondiale in Francia, mentre in Germania è la battaglia della Somme che prende questo ruolo. Durante dieci mesi di combattimenti, 23 milioni di proiettili pioverò sulle armate, circa sei granata per metro quadrato. Gli uomini, per proteggersi, scavano trince e il paesaggio viene profondamente intaccato, foreste distrutte e terreni completamente rimodelati dalla trince e dalla voragine delle granate. I testimoni parlano di un paesaggio lunare. La promiscuità mescola i morti ai vivi. L'intensità dei combattimenti non lascia tempo per occuparsi dei caduti e per motivi di igiene rendono urgenti le sepolture, anche in tombe di fortuna, come i crateri di granata trasformati in fosse comuni, i rifugi e le trince. Non è raro che l'identificazione dei corpi sia impossibile ed essi sono sepolti senza distensione di nazionalità, rongo o la religione. La terra e gli uomini sono abusati e finiscono per fondersi. Si parla della terra sacra di verde. Fin dalla fine della guerra si fa la domanda di costruire un gran cimitero nazionale a Verdun. Diversi progetti sono presi in considerazione. Tra questi viene realizzato il memoriale detto la tranche des baionettes. Nel 1919 un ossario provvisorio è costruito sul piano Duomont-Tiomont per raccogliere le ossa disseminate sul terreno e consentire alle famiglie un luogo di raccoglimento. Il progetto di un ossario è quindi relativamente nuovo all'inizio del Novecento. Quella di Duomont è uno dei quattro principali monumenti eretti in memoria dei soldati francesi morti durante la Grande Guerra con il monumento nazionale Atman Villocope, il santuario di Dormont e il santuario Notre-Dame de Lorette. Il progetto dell'ossario di Duomont è contemporaneo di questi ultimi due con il quale condivide il programma originalmente modellato su Notre-Dame de Roser de Lourdes, un ossario nella cripta semipoggia, sormontato da una chiesa di pellegrinaggio. Due personalità lavoreranno in particolare per realizzare l'ossario di Duomo. Monsignor Marie-Andrée Charginisti, che ottiene il suo primo ufficio episcopale a Verdun, il 14 marzo 1913, è l'iniziatore del progetto. Il suo impegno accanto ai soldati durante il conflitto gli valse il soprannome di Vescovo dei poveri e gli valse nel 1918 la croce di cavaliere della legione d'honneur del presidente della Repubblica Raymond Poincaré. E ricrea e preside, dal 1919, il Comitato della Memoria dei Defensori di Verdun. Il marecialo Philippe Petain, celebrato come il vincitore della battaglia di Verdun, ne divenne presidente onorario. La principessa Anna Marie di Polignac, il cui marito morì al fronte, fu vicepresidente. Tutti tre lavoreranno per raccogliere i fondi necessari per completare il progetto e rappresentare simbolicamente l'unione del clero, dell'armata e della società civile. Il 22 agosto 1920, la prima pietra è stata simbolicamente deposta. L'utilizzo della memoria per consolidare l'unità nazionale è particolarmente evidente il 10 novembre 1920, nel corso di una cerimonia ufficiale nella cittadella di Verdun. Quel giorno, un giovane soldato di 21 anni è chiamato a indicare tra otto bar dei soldati non identificati quella del milite ignoto che riposa ancora oggi sotto l'arco di trionfo a Parigi. Al fin di conferire un'indimensione nazionale al progetto ossario e propagandarne l'iniziativa nel mese di agosto 1922, è indetto un concorso nazionale di architettura. La scelta del sito cade sul crinale di Thionmont, cuore del campo di battaglia, che sorge in una posizione dominante. Il progetto deve quindi essere radicato nella terra di Verda. Il programma prevede un ossario, alcuni santuari e un attore. L'ossario deve contenere 52 tombe con le ossa corrispondenti a ciascuno dei 52 settori del campo di battaglia. Il santuario cattolico può essere collegato all'ossario, ma deve essere al di fuori di esso come i santuari protestanti, ebrei e musulmani. essa dovrebbe fornire la possibilità di tenere le masse d'aria aperte. Un posto di rilievo è assegnato al santuario cattolico perché è la religione maggioritaria dei difunti. Ma il programma prevede così un luogo ecumenico in cui la funzione funebre è il cuore del progetto. Questo è principalmente un monumento patriotico prima di essere un luogo di culto. L'idea è di costruire un basilico sostituita da un semplice cappella. infine il programma contempla la necessità di incorporare una lanterna dei morti che accentua il carattere simbolico. Questo elemento architettonico godi una lunga tradizione che risale al XII secolo e viene incluso in ritardo nel programma ossario. esso si rivolge sia ai morti ai vivi e alle generazioni future. Questo è un punto di riferimento per guidare il defunto sperduto sul campo di battaglia un faro per illuminare il presente e un memoriale per scongiurare l'obbio. Quest'attore dovrebbe aiutare a formalizzare quando esprime Alois Striegel nel 1903. La commemorazione per obiettivo fin dalla costruzione del monumento che esso non appartenga al passato e ma rimanga vivo nella conscienza delle generazioni future. il primo giudizio del concorso si chiude 22 ottobre 1922 le 56 proposte sono giudicate il 10 novembre dopo aver valutato il rispetto del programma l'unità della composizione la monumentalità e l'integrazione del monumento al campo proposto 11 progetti sono selezionati con 5 vincitori e 6 menzioni tra questi ultimi troviamo il progetto del Giovanni Eugène Baudoin e Marcel Lotz i 5 vincitori selezionati per competere nella seconda fase sono stati tutti allievi del Baux-Arts di Parigi e la maggior parte di loro furono soldati della Grande Guara sono tutti della stessa generazione con l'eccezione di Paul Bigot prido Rom nel 1900 il secondo giudizio è svolto in data 22 marzo 1923 il 24 marzo la giuria designa il vincitore con 11 voti contro 5 il progetto di Leon Asema Jacquardy e Max Edré Leon Asema e Jacquardy sono appena laureati rispettivamente nel 1919 e 1920 Max Edré sarà l'anno successivo nel 1924 ha appena finito il secondo del concorso dell'istituto di arte e archeologia vinta da Paul Bigot anche se gli architetti sono tre sembra che l'autore principale del progetto sia Leon Asema prido Rom nel 1921 e pertanto un residente presso l'Accademia di Francia a Roma al momento del concorso Il progetto consiste in una grande galleria di 180 metri che è danzata da 26 campati con una tomba di entrambi i lati dunque 52 per motivi di bilancio la lunghezza sarà ridotta a 137 metri e a 18 campate rinunciando al simbolo dei 52 settori della difesa di verde le finestre sono schermate con un doppio strato di vetro oro all'interno rosso all'esterno questo accorgimento immerge il chiostro così viene chiamata la galleria in un'atmosfera rosastra che evoca il fuoco e il sangue i nomi dei soldati uccisi in azione sono incisi sulle pareti e sulla volta consentendo di coniugare memoria individuale e memoria collettiva la vocazione occumenica non viene effettivamente realizzata il quanto la cappella cattolica è centrale mentre i santuari ebrai e musulmani lontani dal monumento la torre di 46 metri riprende lo schema della croce che è già nella torre lanterna della memoria di Notre Dame de Lorette alcuni preferiscono vedervi una spada piantata nel terreno o un granada il cantiere riserva tre difficoltà principali e fondamentà il sistema di copertura a volta e la realizzazione della torre per impiantare l'edificio è stato necessario andare a calcare ad una profondità di 8 a 20 metri con 234 pozzetti in caccia struso la realizzazione combina l'uso di materiali tradizionali e principi costruttivi moderni così dietro l'apparente semplicità della copertura nascono una modernità costruttiva costituita da una struttura tripla un interno in pietra a volta un seconda a volta di cemento con matoni forati e poi un arco in pietra esterna l'inclinazione esterna delle pareti funge da come contraforta aiuta ad ancorare l'edificio nel terreno il chiostro sembra voler estendere il picco di Duomo nell'immagine primaria del tumulo dove la terra è parte del monumento l'espressione semplice e massiscia richiama l'architettura romanica con la sua volta a botte e l'architettura militare con decorazioni misurate e una stilizzazione geometrica figlia dell'art déco l'osario ha diverse analogie con l'architettura funeraria dell'antico Egitto così il basamento a bugnata di pietra è un riferimento al più vecchio prototipo di architettura funeraria la mastaba il profilo delle pareti inclinate ricorda la faccia del piccolo tempio di Abu Simbel i nomi dei morti sulle volte e pareti ricordano geroglifici dei tempi e delle tom faraoniche che imprimono all'edificio lo statue di libro dei morti i viaggi in Egitto durante il soggiorno a Roma di Leon Asema a Villa Medici riflettono il crescente interesse per l'architettura faraonica infatti due delle sue tre relazioni riguardano i monumenti egiziani nel secondo anno del soggiorno romano egli eseghe le istruzioni e le registruzioni di vari monumenti egiziani e dei siti di Luxor Philae Dendera e Carnac questo lavoro è anche una preparazione per il concorso vinto del tribunale del Chero dove si aprirà una filiale dello studio di progettazione i riferimenti naturalistici romanici e egizia si ha simbolici e stilistici sono utilizzati per generare una distorsione delle forme per ispirare all'ospettatore una riposta emotiva ciascuno alimentato dal rapporto con la morte è comprensibile che talvolta Asema sia considerato uno dei pochi rappresentanti francesi del corrente espressionista nel suo testamento del 1938 Filippe Tain esprime il desiderio di stare al fianco di questi soldati nell'ossario di Duomo il suo desiderio non sarà mai esudito e la fama postuma dell'eroe di Verdun resterà oscurata della stretta di mano con Hitler a Montoya nel 1940 le immagini associate con la personalità di Pétain diventano incompatibili con il simbolismo di unità nazionale dell'ossario di Duomo perché il collaborazionismo con il nazismo del regime di Vichy segnerà la divisione del popolo francese mentre la resa di Verdun aveva contrassegnato la resistenza e l'unità nazionale dall'immagine eroica marziale si passa nel corso dei decenni all'opposizione alla guerra alla sacralizzazione della pace una necessità di riconsigliare e di andare avanti e costruire insieme un futuro con la stretta di mano davanti l'ossario di Duomo tra il presidente francese François Mitterrand e il cancelliere tedesco il murcol il 22 settembre 1984 francesi e tedeschi non si trovano più faccia a faccia come sui campi di battaglia di Verdun o durante l'acconto di Montoir ma sono fianco a fianco e guardando nella stessa direzione quella del futuro dell'Europa che richiede necessariamente la riconsigliazione per la sua costruzione dal 2014 con il ristoro dell'edificio i nomi dei soldati tedeschi sono stati aggiunti a quelli dei soldati francesi e sono incisi sulla volta l'ossario di Duomo è adesso un monumento ai caduti a Verdun senza distensione di grado nazionalità o religione grazie ringrazio Benjamin Chavardes per la sua relazione per essere stato anche perfettamente nei tempi che appunto sono di 20 minuti e che non c'è stato neanche bisogno di creare passiamo ora all'intervento di Marco Mulazzani dell'Università di Ferrara Marco Mulazzani è professore associato di storia dell'architettura all'Università di Ferrara dal 98 il redattore della rivista Casa Bella e ha pubblicato tantissimi volumi ma tra le principali pubblicazioni segnalo alcuni la Casa del Valilla architettura e fascismo del 2008 con Rinaldo Camomolla e Rosalia Vittorini diversi volumi appunto come quello sui post-studio sull'architettura e il paesaggio costruito sempre su Massimo Carmassi su Werner Scholl un elenco veramente numeroso e sugli iscritti anche su Luigi Moretti che appunto ricordiamo oggi ci parlerà della la Guardia Eterna cimiteri militari e memoriali germanici sui fronti italiani 1936 1943 da a partire dalle prime sepolture provvisorie che vengono realizzate in Germania dopo la Grande Guerra fino ad arrivare alle più importanti architetture che qui dice che rimodellano un po' anche il paesaggio che diventano delle vere e proprie architetture fino ad arrivare a un confronto a partire dagli anni 20 agli anni 30 invece in Italia quando si cominciano a realizzare anche tra il governo tedesco e il governo italiano la definizione di accordi per i cimiteri di guerra da costruirsi nei due paesi quindi a partire dai monumenti germanici fino a quelli italiani dopo gli anni 30 30 Grazie a tutti.